Ciao veri credenti, bentornati a 40 anni nerd, puntata molto veloce stasera e tra l'altro priva del mio solito cameraman perché ho malato con l'influenza, però non potevo assolutamente farmi mancare questa puntata perché sono appena tornato dal cinema Arcadia qui a Melso dove finalmente dopo un'attesa che è durata tutta la giornata, veramente non vedevo l'ora che finisse la giornata lavorativa, sono andato a vedere Rogue One. Allora, incredibile, ci sono un sacco di cose da dire, non pensavo che fosse così importante, così forte come titolo. Le recensioni che sono arrivate questa mattina parlavano a tratti alterni di film bello, film brutto, miglior capolavoro, miglior film di guerra stellari. Non volevo leggere nulla, non ho letto nulla se non qualche reazione di qualche amico e sono arrivato al cinema non sapendo bene cosa aspettarmi perché il fatto che fosse uno spin off mi lasciava un po' quella mara in bocca, cioè sapete è un po' come con i cinepanettoni della Marvel oramai, sappiamo che oramai ce ne sono tre all'anno quindi non ci si aspetta più nulla. Invece sono arrivato tranquillo, aspettative cariche a molla, tralasciamo il particolare, non del tutto trascurabile che mentre ero in attesa di salire, gente che usciva dal cinema, un bambino commentando con il papà mi ha spoilerato quasi completamente il finale. Direte quindi che cosa sei rimasto a fare, ma ne è valta la pena, assolutamente, perché il film merita indipendentemente dal finale, che anzi direi che se ci pensate bene e non ho intenzione di spoilerarvi nulla, è assolutamente ovvio, non può che finire in quel modo lì. Però veniamo alla pellicola in quanto tale, diciamo che la commozione inizia nel momento in cui di nuovo si vede sul campo nero, la scritta in blu tanto tempo fa in una galassia lontana, lontana, lontana. Quindi già questo basta a rientrare nell'atmosfera. In realtà il tono è molto più oscuro, molto più dark rispetto a quasi tutti i film di Guerra Stellari. Forse i primi dieci minuti di episodio 7 hanno qualcosa di molto simile, che fanno un po' pensare che forse il taglio di queste storie sarà sempre più moderno e sempre più oscuro rispetto ai film degli anni 70 e a quelli un pochino più di matrice disneyana degli anni 2000. Però devo dire che la cosa non fa male, invece è molto interessante la scelta dei personaggi, il modo in cui viene narrata la loro origine e il modo in cui si incontrano. Grande sorpresa per il team di Rogue One. Non avrei assolutamente pensato che si incontrassero nel modo in cui si incontrano, non avrei neanche pensato che avessero tutta questa profondità e questo spessore psicologico, soprattutto non tanto nel personaggio principale ma in quelli di contorno, incluso il droide che ha una personalità fichissima. Ambientazioni. Le ambientazioni sono variegate, ci sono almeno 4-5 pianeti, molto bella quella di Jedda che è una specie di pianeta Jedi abbandonato, comunque distrutto dalla guerra, fa molto pensare a quello che succede nella realtà in paesi del Medio Oriente, quindi è un po' forte il contatto e anche le scene di guerra girate in quel pianeta sono molto 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 realistiche, quindi danno una certa impressione. Interessante il ritorno su Yavin 4, il pianeta della ribellione, ci sono un sacco di volti noti, un sacco di cameo, un sacco di personaggi che colpiscono, ma e devo essere sincero la scena meravigliosa che dura quasi 20 minuti, che è la scena finale, è quella che poi ruba tutto il resto del film, le aspettative vengono caricate a mille, la storia ci sono dei momenti in cui potrebbe sembrare lenta, ma nel momento in cui il team Rogue One decide di agire e arriva alla conclusione finale, quindi all'atto di rubare i piani della morte nera, non c'è veramente un attimo di pausa neanche per un secondo. È una scena meravigliosa girata su più livelli, a livello della terra, sul trailer è quello con i camminatori che si muovono sulla spiaggia, l'avrete visto sicuramente il trailer. Nello spazio ci sono tutta una serie di combattimenti con gli X-Wing e i T-Fighter imperiali, devo dire che le riprese sono girate in maniera estremamente sapiente perché riescono a mescolare lo stile dei vecchi film, tralasciando le eccessive acrobazie dei film degli anni 2000, però mescolandoli con un taglio molto molto moderno, sotto certi punti di vista sembra quasi di vedere una scena animata del battlefront dello scorso anno. Il finale, non vi dico nulla, ma è qualcosa di meraviglioso. Fino a un minuto dalla fine, sono rimasto commosso, rattristato da tutto quello che vedevo. Nella scena finale gli ultimi dieci secondi sono un'esplosione completa di tributo e di gioia, compreso di un applauso di tutto il pubblico, per cui qualcosa di veramente fantastico. Credo che lo rivedrò almeno una volta queste vacanze, se non qualcosa in più, per cui queste sono solamente le prime impressioni, tra l'altro godivate dal fatto che sono riuscito a portarmi a casa altre attraction figure di Rogue One e della Black Series. Per cui per adesso, cari fantastici amici nerd, è tutto. Ci vediamo e aspetto i vostri commenti. Ciao!